Buongiorno a tutti, ben ritrovati in rete e ben ritrovati nelle piazze delle città di Lombardia. Mi auguro martedì 30 aprile per chiedere che Equitalia, una volta per tutte, una volta per sempre, se ne vada da Regione Lombardia. Ci sta lavorando Maroni, ci sta lavorando la Lega. Nei capoluoghi della Lombardia saremo lì a chiedere che cosa? Che questo esercito che conta 8.000 dipendenti, che fa 700.000 controlli all'anno, spesso e volentieri su persone che non hanno nulla da nascondere, un esercito che guadagna il 9% sui debiti contestati, che manda in rovina spesso e volentieri famiglie, aziende, un esercito che ha ipotecato negli ultimi tre anni 426.000 appartamenti, un esercito il cui capo, il dottor Befera, porta a casa più di 300.000 euro, fa il forte con i deboli e fa il coniglio con quelli che invece hanno evaso milioni e milioni. Quindi via, via, via Equitalia dalle nostre città. Il primo maggio è la festa del lavoro, il lavoro non ha bisogno di Equitalia, vi aspettiamo a Milano, a Como, a Bergamo, a Brescia, a Varese. Via Equitalia, in Lombardia ci gestiamo noi i nostri quattrini e anche i nostri debiti. Grazie.